cari fratelli e sorelle buongiorno ci soffermiamo oggi sulla quinta beatitudine che dice beati misericordiosi perché troveranno misericordia in questa beatitudine c'è una particolarità e l'unica in cui la causa e il frutto della felicità coincidono la misericordia coloro che esercitano la misericordia troveranno misericordia saranno misericordiati questo tema della reciprocità del perdono non è presente solo in questa beatitudine ma è ricorrente nel mangelo e come potrebbe essere altrimenti la misericordia è il cuore stesso di dio gesù dice non giudicate e non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati perdonate e sarete perdonati sempre la stessa reciprocità e la lettera di giacomo afferma che la misericordia ha sempre la meglio sui giudizi ma è soprattutto nel padre nostro che noi preghiamo rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e questa domanda è l'unica ripressa alla fine se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe il padre vostro che nei cieli perdonerà anche a voi ma se voi non perdonerete gli altri neppure il padre vostro perdonerà le vostre colpe ci sono due cose che non si possono separare il perdone dato e il perdone ricevuto ma tante persone sono in difficoltà non riescono a perdonare tante volte il male ricevuto è così grande che riuscire a perdonare è sempre come scalare una montagna altissima uno sforzo enorme uno pensa e sa no non si può questo non si può questo fatto della reciprocità della misericordia indica che abbiamo bisogno di rovesciare la prospettiva ma da soli non possiamo ci vuole una grazia di Dio e dobbiamo chiederla infatti se la quinta beatitudine promette di trovare misericordia e nel padre nostro chiediamo la remissione dei debiti vuol dire che noi siamo essenzialmente dei debitori e abbiamo necessità di trovare misericordia tutti siamo debitori tutti verso Dio che è tanto generoso e verso i fratelli ogni persona sa di non essere il padre o la madre che dovrebbe essere lo sposo o la spossa il fratello o la sorella che dovrebbe essere tutti siamo in deficit nella vita e abbiamo bisogno di misericordia sappiamo che anche noi abbiamo fatto il male manca sempre qualcosa al bene che avremmo dovuto fare ma proprio questa nostra povertà diventa la forza per perdonare siamo debitori e se come abbiamo ascoltato all'inizio saremo misurati con la misura con cui misuriamo di altri allora ci conviene allargare la misura e rimettere i debiti perdonare ognuno deve ricordare di avere bisogno di perdonare di avere bisogno del perdono di avere bisogno della pazienza questo è il segreto della misericordia perdonando si è perdonati perciò Dio ci precede e ci perdona Lui per primo ricevendo il suo perdono diventiamo capaci a nostra volta di perdonare così la propria miseria e la propria carenza di giustizia diventano occasione per aprirsi al regno dei cieli a una misura più grande la misura di Dio che misericordia da dove nasce la nostra misericordia? Gesù ci ha detto siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso quanto più si accoglie l'amore del Padre tanto più si ama la misericordia non è una dimensione fra le altre ma è il centro della vita cristiana non c'è cristianessimo senza misericordia se tutto il nostro cristianessimo non ci porta alla misericordia abbiamo sbagliato strada perché la misericordia è l'unica vera meta di ogni cammino spirituale essa è uno dei frutti più belli della carità ricordo che questo tema è stato scelto dal primo Angelus che sono dovuto dire come Papa la misericordia e questo è stato molto impresso in me come un messaggio che come Papa io dovrei avrei dovuto dare sempre un messaggio che deve essere di tutti i giorni la misericordia ricordo che il giorno che anche ho avuto l'atteggiamento un po' svergognato di fare pubblicità a un libro sulla misericordia appena uscito dal Cardinale Casper e quel giorno ho sentito tanto forte questo è il messaggio che io devo dare come Vescovo di Roma misericordia misericordia per favore perdono la misericordia di Dio è la nostra liberazione è la nostra felicità noi viviamo di misericordia e non ci possiamo permettere di stare senza misericordia è l'aria da respirare siamo troppo poveri per porre le condizioni abbiamo bisogno di perdonare perché abbiamo bisogno di essere perdonati grazie